Italia Zulu 4, Victor Quebec Sierra Ok Roger ricevuto referenza qui Italia Zulu 4, Victor Quebec Sierra Barrato QRP 5,9 anche per te, grazie Grazie a te, dimmi quant'è il QRP, quanti watt è? Affermativo, affermativo, 5 watt è barato portatile 5 watt è barato portatile Ciao, grazie, buon pomeriggio Le domando a tutti i QRP perché quando vado io a QRP so quanto è difficile trovare il momento giusto quindi mi fa molto molto piacere Un abbraccio, a presto 73, ti mando il video, grazie Grazie a te, è gentilissimo Il zero chilo degli enchi